La scuola media statale di Soci è l'unico per il momento plesso chiuso interamente in provincia di Arezzo per i casi positivi che ci sono stati tra gli alunni. Sì, noi abbiamo due plessi scolastici, due istituti comprensivi che al loro interno hanno tutti e tre gradi scolastici. Abbiamo deciso ormai una settimana fa di chiudere, sospendere l'attività in presenza dei ragazzi nella scuola media di Soci, una delle nostre due scuole medie perché appunto da un caso riscontrato, poi due, poi con la ricostruzione sono venuti fuori ben oltre 30 positività tra gli alunni su oltre 150 alunni e quindi è evidente che abbiamo preso la dura decisione di dover sospendere almeno per una settimana, poi oggi confermato anche per questa settimana, la sospensione dell'attività didattica in presenza per poter avere il tempo per ricostruire i contatti in maniera efficiente e soprattutto per avere una ripresa poi della didattica in presenza in maniera del tutto sicura in questa scuola media di Soci. E proprio mentre la nostra troupe si trova sul luogo arriva la notizia che in questo istituto comprensivo un'altra classe finisce in quarantena per la positività di una maestra nella scuola materna. La notizia corre sui social come spesso accade ma ci assicura il dirigente che dopo pochi minuti la conferma della ASLA arriva e i bambini vengono rimandati tutti a casa. È un secondo tampone che è stato rivelatore questa mattina perché nella giornata di sabato c'era una positività a bassa carica ora la norma non prevede la chiusura per la positività a bassa carica ma solamente per una positività senza questa addizione a bassa carica. Pertanto noi ne abbiamo discusso a lungo sabato di questa questione e poiché il protocollo non prevedeva la chiusura sabato non è stato chiuso un bel niente. Stamattina in tempo reale perché lei adesso sono mezzogiorno e 46 questa cosa è già successa da qualche ora stamattina è arrivata questa conferma di un secondo tampone e io ho chiesto spiegazione alla ASLA e mi sono arrivati dopo tre minuti che le ho chieste perché me le stavano per dare loro. Siccome può capitare che un genitore faccia prima con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo ma fa prima di tre minuti non è che fa prima di due ore o di una settimana. È una corsa contro il tempo non c'è dubbio durante la quale non dovrebbero esistere weekend, giorni festivi perché il bene primario di tutti noi, la salute, non conosce vacanza. A differenza di quanto sta accadendo in altri comuni italiani che segnalano ritardi nelle comunicazioni sui casi positivi qui ci confermano non è così il triangolo ASL scuola e comune funziona. Stiamo tutti lavorando sul filo di lana quindi c'è una collaborazione strettissima ma la cosa fondamentale è che noi non siamo soli cioè la ASL nella persona del dottor Vigiani è presente al 100% oppure la domenica sera, ci sentiamo ieri sera, ci siamo scritti e sentiti quindi è un continuo. Può capitare, è capitato di essere avvisato la domenica a venire a scuola e che contattare le famiglie degli alunni da mettere in isolamento. Questo succede, è normale che accada vista l'emergenza e sta funzionando molto bene. Anzi guarda, io ho letto, prima che appunto lei venisse a spormi questa domanda, ho letto sui giornali e sulle chat dei colleghi che in tanti punti d'Italia non funziona il contatto con la ASL e i dirigenti devono prendere delle decisioni da soli. Qui questa cosa non sta succedendo, assolutamente non sta succedendo. Io prendo le decisioni sulla base di quello che mi dice la ASL e poi tra l'altro sono in strettissimo contatto con il sindaco. Cioè è una comunicazione a tre, continua.